se mia madre era una lettrice infedele era d'altra parte per le opere nelle quali ritrovava l'accento d'un sentimento vero una lettrice mirabile per il rispetto e la semplicità dell'interpretazione per la bellezza e la dolcezza del suono così quando leggeva la prosa di Georges Saint che respira sempre la bontà la distinzione morale che la mamma aveva imparato dalla nonna a considerare superiori a tutto nella vita e che solo molto più tardi io le avrei insegnato a non considerare superiori a tutto anche nei libri attenta a bandire dalla propria voce ogni leziosità ogni affettazione che avrebbe potuto impedirle di riceverne il flusso potente infondeva a quelle frasi che sembravano scritte per lei e che rientravano per così dire senza residui nel registro della sua sensibilità tutta la tenerezza naturale tutta l'ampia dolcezza con le quali esse reclamavano di essere pronunciate per affrontarle nel tono giusto ritrovava l'accento cordiale che ad esse preesiste e che le ha dettate ma di cui le parole non danno alcuna indicazione grazie a questo smorzava di passaggio qualsiasi crudezza nei tempi dei verbi dava all'imperfetto e al passato remoto la dolcezza che c'è nella bontà la malinconia che c'è nella tenerezza indirizzava la frase che finiva verso quella che stava per cominciare ora accelerando ora rallentando la marcia delle sillabe per inserirle benché le loro quantità fossero diverse in un ritmo uniforme insufflava in quella prosa così comune una sorta di vita sentimentale e ininterrotta